Buongiorno a tutti, mi sono recato in quel di Orio perché come avete sentito c'è stato un incidente questa mattina questo è quello che si vede da qui, lo so non si vede molto ragazzi però qua le strade sono tutte completamente bloccate dalla polizia si distingue comunque la coda gialla, un pezzo di fusoliera bianco e dietro c'è gialla anche la gru che sta lavorando per rimuovere naturalmente l'aereo visto che è finito sulla tangenziale superando un'altra strada e per miracolo non è successo nulla alle persone per il momento hanno imbragato la coda ma tutto ancora fermo Grazie